42 anni di apparizioni mariane a Meggiugori, piccolo villaggio della Bosnia-Herzegovina, dove nel 1981 alcuni ragazzi affermarono di vedere la Madonna, la Regina della Pace. Nonostante un giudizio ancora sospeso da parte del Vaticano, da quattro anni Papa Francesco ha deciso di autorizzare i pellegrinaggi ufficialmente organizzati da diocesi e parrocchie con destinazione a Meggiugori. Al 42esimo anniversario hanno preso parte anche i gruppi di preghiera siciliani della Regina della Pace. Sono pellegrini provenienti da varie diocesi, in particolare Palermo, Agrigento e Caltanissetta, guidati da Don Pino Cigno, parroco della chiesa di Sant'Agata di Cefalù. Giorni di fede palpabile per loro, fra rosario e catechiesi, confessioni ed eucaristia. Giorni di silenzio, preghiera e condivisione, in quello che anche Monsignor Aldo Cavalli, da un anno visitatore apostolico a carattere speciale per la parrocchia di Meggiugori, ha definito un luogo di grazia.